Lo sviluppo lo fanno gli investimenti e non la spesa corrente, quindi quello che andrebbe fatto è l'opposto di quello che ha fatto il governo Renzi. Nella legge di stabilità Renzi ha tagliato gli investimenti nel 2015 del 35%, quindi è l'opposto di quello che va fatto. Al sud vanno fatti grossi investimenti pubblici, la Napoli-Bari per capirci, la ferrovia, queste cose le può fare direttamente anche... Dici anche a me di studiare di più, studia anche tu però. Ma lo so, il problema è farle le cose, siccome governate tutti voi al sud fate qualcosa e non spesa corrente, perché se tu assumi mille persone in un comune non fai sviluppo ma bruci risorse, vanno fatti investimenti, strade, ponte, ferrovie. Va bene, punto!